L'identikit di Alessio Butti, il dopo Colau Amici di Come Don Quixote, ben ritrovati con il Tecno Ribelle dopo il Tecno Draghistan, il diluvio sotto Giorgia Meloni dopo Vittorio Colau, adesso Alessio Butti accolto con un più 5% Telecom sul listino di Piazza Affari per lui non il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale ma un posto da Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'innovazione, cioè una poltrona a Palazzo Chigi con cui gestire gli oltre 40 miliardi di euro in digitale nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per proseguire nel solco Draghi-Colao l'Agenda 2030 assecondando i target di lobby e compagnie telefoniche sì all'intelligenza artificiale, sì alla tecnologia blockchain sì alla digitalizzazione dell'Italia sì alla sovranità digitale e alla regolamentazione europea delle big tech sì ad un unico operatore pubblico italiano di rete in fibra sì al 5G sì all'innalzamento dei limiti soglia di inquinamento elettromagnetico perché i rischi per la salute umana sono del tutto immaginari e del tutto ipotetici questo in soldoni è il butti da como pensiero diploma di istituto tecnico industriale ex consulente di marketing assolto per abuso di ufficio e giorgiano di Fratelli d'Italia fedelissimo sin dai tempi del movimento sociale italiano e alleanza nazionale che dagli scranni dell'opposizione nell'ultima legislatura ha imbastito relazioni strette con i poteri forti delle telecomunicazioni tanto da finire a pochi giorni dal voto in un simbolico passaggio di consegne col top manager Vittorio Colau davanti ai vertici di team Vodafone Win3, Fastweb ed Iliad la tecno investitura da Camelot a nove drate como ci sono delle circostanze una congiuntura astrale favorevole allo sviluppo delle tecnologie e del digitale dall'università e campus afferma Alessio Butti già responsabile dipartimento media e telecomunicazione di Fratelli d'Italia che nel 2019 incalzando sull'elettrosmog l'esecutivo Conte ripeteva impettito nessuno vuole esporre i propri figli ad effetto nefasto ancora da dimostrare ma vogliamo consentire loro di vivere il progresso in modo sicuro e sereno non vogliamo allarmismi perché nessuno degli studi scientifici ha evidenziato effetti sulla salute associati ad esposizione ai campi elettromagnetici ad alta frequenza usati dal 5G tanto che i rischi ambientali e sanitari sono del tutto immaginario e del tutto ipotetici ospite abitudinario a Roma nel forum 5G Italy e nei seminari della fondazione Ugo Bordoni di stretta osservanza negazionista del danno biologico dal wireless per la più classica delle ammucchiate alla così infantutti secondo Botti non ci sarebbero pericoli sanitari di elettrosmog fino a 300 GHz equiparati agli effetti del 5G a quelli delle radiofrequenze TV ma pure agli apparecchi elettromedicali linee elettriche di alta tensione forno a microonde e inquinamento elettromagnetico casalingo da elettrodomestici del tipo un frigorifero acceso vale come una maxi antenna irradiante sul tetto di casa insomma di tutta l'erba un fascio anche qui dentro siamo bersagliati di inquinamento elettromagnetico di centinaia di cellulari che non smettono un secondo di trasmettere così come centinaia di computer riferendosi ai parlamentari in aula tuonò il neo sottosegretario della Meloni sostenendo che oggi rispetto a ieri c'è molto meno inquinamento elettromagnetico e molta meno dispersione di energia per poi però tradirsi in nome di chissà quale Europa se non quella di elite neoliberiste e globaliste nel dirsi propenso ad aumentare di 110 volte i limiti soglia di inquinamento elettromagnetico fino alla media dei pericolosi 61 volt per metro la scienza lo ha spiegato nel dettaglio possibile che il governo non rispetti la scienza? Nell'iter della riforma mancata tre anni fa per agevolare le amiche telco ripeteva butti facendo intendere come l'asta miliardaria del 2018 per il 5G più che il dazio contrattuale di Stato servirebbe da ammorbidente per governo per impedire ulteriori smorsi privati nella re-ingegnerizzazione di infrastruttura tecnologica cioè una spesa di 4 miliardi di euro evitabili per le aziende così 61 volt per metro impallinando di nuove antenne come un albero di Natale pali e tralicci già esistenti il tutto a favore anche dell'intelligenza artificiale sono un tifoso dell'intelligenza artificiale e anche del blockchain il registro digitale trasposta a Como a Damasco per una folgorazione lariana in Riva al Lago all'inizio dell'emergenza Covid-19 quando Vittorio Colau da Londra era capo della task force voluta da Conte e McKinsey secondo Butti il bocconiano sentenziava tante banalità parecchie ovvietà per poi elogiarlo sotto Draghi appena nove mesi più tardi ho espresso al ministro Colau solidarietà per i ritardi il disastro e la confusione che in materia di digitalizzazione del paese ha ereditato l'accelerazione digitale aumenta l'occupazione e soprattutto il PIL del paese per questo sponsorizza il progetto Minerva la scalata di cassa depositi e prestiti su team per aggregare anche la rete di Open Fiber in sintesi fare meglio e di più di Vittorio Colau oppure senza un ministero il sottosegretario con deleghe dallo spazio all'innovazione tecnologica pare morbosamente bramarlo senza farne affatto mistero per questo dopo anni di lobbying e infittite trame in quel posto ce l'hanno messo senza indugiare gaudenti e speranzosi incrociano le dita Giorgia Meloni Vittorio Colau Astel di Confindustria e Aspen Institute eia eia alala per approfondimenti e maggiori dettagli vi rimando a Stop 5G salute ambiente geopolitica privacy transumanesimo controllo sociale libro inchiesta sui lati oscuri del futuro digitale Terra Nuova Edizioni oppure sul sito di aggiornamento naturale www.sisana.com appuntamento alla prossima puntata del Tecno Ribelle e un caro saluto a tutti da Maurizio Martucci Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie a tutti.